Le indiscrezioni riguardanti un suo possibile trasferimento dalla Mediaset alla RAI sono state confermate da uno dei volti più apprezzati e chiacchierati di questi ultimi tempi. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli, e se ti stai chiedendo perché sia stata lei a confermare questi rumor? La risposta è semplice. Proprio lei la diretta interessata. L'ex moglie di Paolo Bonolis, nonché opinionista dei più noti reality show, ha deciso di lasciare la Mediaset per questa stagione autunnale. E si dedicherà ad uno dei programmi più seguiti sulla rete Ammiraglia. Stiamo parlando di Ballando con le stelle. Dancing show condotto da Millie Carlucci, in onda in prima serata su RAI 1. La Bruganelli sarà una dei dieci partecipanti della trasmissione, e ci cimenterà nel ballo dopo la conferma della separazione da Bonolis. La Bruganelli starebbe frequentando Angelo Madonia, uno degli insegnanti di ballo proprio della trasmissione di Millie Carlucci. Tuttavia, pare proprio che Sonia Bruganelli non ballerà con lui, ma verrà affiancata da un altro insegnante. Sonia e Angelo sono stati beccati diverse volte dai paparazzi e ultimamente sono stati avvistati in Sicilia per i 40 anni di lui. Dopo un post pubblicato sul suo profilo social, adesso sappiamo che anche Sonia Bruganelli parteciperà a Ballando con le stelle. Lo show inizierà sabato 28 settembre, e oltre alla Bruganelli ci saranno anche Luca Barbareschi, Bianca Guaccero, Federica Nargi, Francesco Paola Antoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman e i Cugini di Campagna.